E ricordiamo il quadro completo della prima giornata di campionato, basket club Cerignola Coralto, Adria Bari Lecce, Forti Tutotrani Mesagne, Cestestica Barletta Monopoli, Taranto Virtus Molpeta, Diamond Voggia Dinamo Brindisi e Cus Bari Juve Trani. Pallavolo, due amichevoli importanti in preparazione dei rispettivi campionati per la penicilia Libera Virtus V1 Donne e per la pallavolo Cerignola Serie C Donne. Per le ragazze allenate da Marco Breviglieri, un importante test a questo poveriggio alle 17.30 contro il volley Castellana Grotti che sarà una delle avversarie da affrontare nel corso del campionato appena citato. Per quanto concerne invece le Cuxia, allenate in questo caso da Davide Castellaneta, sfida interna, anzi in trasferta, alle 18 contro il Voggia Volley nell'ambito di un memorial sportivo di pallavolo. In chiusura il calcio parte oggi la settima giornata del campionato di Serie A con tre anticipi che verteranno più sul discorso salvezza ma anche su possibilità di riscatto. Alle 15 Spal Parma, alle 18 Verona Sabdoria, alle 20.45 Genoa Milan con ultima chiamata per Marco Giampaolo che in caso di sconvita potrebbe costargli la banchina rossonea. È tutto per questa edizione di Sport Report, grazie per essere stati con noi. Il prossimo puntamento con Speciale News Web 24, domani mattina con il telegiornale, la domenica alle 9. Buon fine settimana.